sempre gruppi numerosi di quelli che noi forse con un termine spregiativo chiamiamo zingari e lì conducevano una vita autonoma, cioè non all'interno della comunità poema ma indipendente, vivevano a modo loro e però erano anche in un certo senso rispettati e accettati dalla popolazione poi accade qualcosa che purtroppo le crisi economiche rincorrono la storia dell'umanità da sempre e forse per sempre per cui in Bohemia ci fu una notevole crisi per cui i bohemian cominciarono a spostarsi verso l'Europa del sud e soprattutto si fermavano in Francia alcuni in Germania, un gruppo in Germania, ma il gruppo più numeroso raggiunse la Francia e soprattutto Parigi, perché Parigi era capitale, era una città inquietante ma a Parigi, qual era la situazione politica? dobbiamo per capire tenere presenti alcune date alcune date che sono 1830, 1848, 1850, 1852 perché queste cose? beh, perché la Francia fu la terra della rivoluzione francese detto tra noi, una rivoluzione come quella in Italia non sarebbe mai accaduta infatti non è mai accaduta poi, purtroppo, ai concetti di libertà, fratellanza e gloriazza supertrò la ghigliottina con tutti i danni che essa portò con sé e successivamente arrivò Napoleone per cui la Francia veniva da una storia complicata non certamente facilitata da Napoleone perché, sì, certo, lui che ne ha la fronte al massimo fattore però scompassò l'Europa pretendendo di sottomettere la Francia in parte qui riuscì tanta parte dell'Europa non a caso la seconda moglie di Napoleone era Maria Luisa d'Austria che era la figlia dell'imperatrice vabbè quando Napoleone viene sconfitto definitivamente e definitivamente costretto a ritirare Sessantena in Francia si trovarono in grande difficoltà ma interpenne il cosiddetto congresso di Vienna 1815 che cosa volle che cosa tentò di fare dico, tentò perché sulla carta lo fece ma la storia non torna indietro e il principio di metterli decise che sul trovo in Francia dovevano ritornare gli eredi di Colone e poi lo vabbè, quindi ho chiamato sì, ritornò Luigi XVIII ma poverino poverino non era adatto a degno salì al trono Carlo X nel 1830 che è un figlio minore di quello Luigi che era stato finitato anche qui lo scontento fu notevole non sempre e non tutto per colpa del re perché quando ci sono le spinte vitellistiche chiaramente chi paga è il capo ma non tutte le responsabilità fino a quando Carlo X è costretto a lasciare e sul trono viene posto Luigi Napoleone Bonaparte unerebbe non diretto di Napoleone Bonaparte e anche qui la situazione fu abbastanza difficoltosa pentò di portare ordine e nello stesso tempo di fare delle riforme non mi riuscì e ad un certo punto anche mi fu costretto a lasciare e arrivò la Repubblica però la Repubblica non era una novità per la Francia ma certamente era un'esperienza assolutamente diversa e chi fu eletto? fu eletto perdone al fu eletto presidente della Repubblica lui deve scusare sì, lui di una qualità di buon lavoro che ha l'inizio sembrò l'uomo più democratico il sovrano più democratico dell'Europa sì ma noi ancora oggi riteniamo che chi arriva al potere per elezione deve essere per forza ottimo deve perché è eletto e quindi è giusto va riconosciuto certo dal punto di vista teorico è vero e allora il presidente della Repubblica aveva un gran esiderio di potere di predomigno per cui cominciò a tagliare teste ma non nel senso della litotina a togliersi di mezzo tutti gli oppositori o quelli che riteneva tanti e sapete quando cadono le teste chigliottina o no ma certo la chigliottina la eviterei decisamente ma ma anche dal punto di vista metaforico non è mai un tema perché ci troviamo e ci siamo trovati sempre di fronte ad un capo autoritario chiaramente che che vuole essere autoritario per cui infatti il grande presidente della Repubblica a un certo punto disse ma ma io la Repubblica ma io faccio un colpo di Stato e mi proclamo imperatore si circondò dei fedelissimi perché con tutti i capi ereditari e i capi autoritari hanno i fedelissimi questo è il della norma da sempre e per sempre e si proclamò imperatore di Francesca fu sconfitto solo parecchi anni dopo con la battaglia di Sedan se non mi ricordo male e perciò la Francia ha vissuto un periodo veramente difficile sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista politico all'Italia tornerò ma vi dico solo subito che l'Italia è sempre lenta va indietro anche perché nel 1830 e persino nel 1852 l'Italia non era stata unita l'Italia l'Italia ha costruito l'Italia era ancora diffusa diventando di stare che potevano fare in Francia arrivavano i poemian ma io a parte ciò che vi ho detto le difficoltà con il ordine politico ce n'erano con le altre e i difficoltà maggiori derivavano da un elemento fondante secondo me molti di voi ricorderanno che alla fine del periodo diciamo così romantico non romantico nel senso di tenerezza ma filosofico letterario si impose in Europa la rivoluzione industriale in Francia di specie nuovo perché in Francia la rivoluzione industriale si affermò fortissima basta ricordare Emile Solà con i suoi romanzi ma anche questo successo in un primo tempo notevole della come dire del progresso di scienza delle scienze della tecnica durò poco si insinuò nell'anno soprattutto dei più giovani uno scontento generale soprattutto da parte di chi anche questa è una costante storica cioè da parte dei figli dei ricchi che stanchi degli agi come dire della vita bella che conducevano in famiglia decisono di ritori di ritori finalmente non si ne può più l'aria soffocante io voglio fare una vita diversa e si radunavano sulla riva delle vite della senna imitaro la vita dei poeni degli zigari ora riguardo a questo fenomeno bisogna dire che è stato per molti versi sottovalutato cioè lo si è visto quasi sì come una ribellione ma quasi come un fenomeno passeggero di costume invece quello era un momento fu un momento importante nella vita e politica e culturale dei francesi ma noi non sapremmo quasi niente dei poeni se non fosse stato scritto questo librettino che è intitolato Scene di poema scritto da Henri Nusser che è lo stesso autore a cui si rifaranno i librettisti di cucini cioè il di Giacosa che si ispirano rivedono rimpastano questo librettino che io mi sono divertita a leggere ed è bellissimo nel senso perché bellissimo allora Henri il più G è un commediografo diciamo così non grandissimo scrive più quei vogliali che lo conosceva però scrisse questo libretto che è interessante e lui che c'è parte del guagliere quindi li vede dall'interno ne vede i vizi di youtube purtroppo il fatto che l'alcol e le droghe non mancavano certamente ma lo fa con una dolce ironia che rende queste patine in effetti molto interessanti e pensate di questa di questo libretto c'è una sola traduzione in Italia fatta da Alfredo Panzini poi più mai più è stata risdampata perché evidentemente non interessavano più poi in Europa ci saranno i governi autoritari di nazismo fascismo di tanti poi niente per talità però ho detto che si ispiravano i librettisti di Cucini Illica e Giacosa Illica e Giacosa erano due personaggi importanti come i anche loro Cucini avevano caratteraccio dicono Illica Pule per cui indicano sempre mentre dovevano mettere a punto diciamo il testo di della boeva e poi l'altra cosa doveva cercare un equilibrio doveva cercare la pace tra i due in effetti Cucini perché la boeva di Cucini è secondo me un vero capolavoro musicale del testo ma siccome intendo farvi sentire un pochino del primo atto di prima di leggo alcuni passati pochissimi perché il tempo che abbiamo vorrei sapere sempre molto poco d'altra parte ma allora i personaggi che noi conosciamo probabilmente dalla boeva chanard marcello rodofio rodofio chanini musetta ci sono in questo testo ma i ruoli sono un po' cambiati e soprattutto chi di voi ricorda l'inizio di boeva che cosa ricorda ricorda una soffitta fredda con dei giovani che vengono già insieme vero bene Miu J non li fa vivere insieme da subito arriveranno a vivere insieme sempre nella stessa soffitta ma avanti nel tempo non solo ma Mimì che è la protagonista della boeva di Cucini non è inizialmente la donna di Lodolfo è la donna di Cionato quindi è un impianto del tutto diverso ma vi letgo perché è divertente perché è divertente io mentre mi divertivo a leggere mi dicevo ma per parte mica c'è stata dire ma è interamente però la leggerezza del tono della l'autore resa saputa rendere dal traditore è veramente piacevole dice ecco come il caso che le persone di poca fede dicono che è la gente degli affari del buon Dio mise in relazioni perché di fraterna amicizia alcuni artisti i quali dovevano poi formare la bella compagnia di poeta e così come la cosa avvenne l'autore si è provato di far conoscere in questo momento fu dunque se dite il tono favoristico una mattina dell'8 aprile che Alessandro Sionari pittore e musico insieme fu bruscamente spettato dal picchi di un gallo che mi serviva dal orologio lui gallo mi serve dal orologio per Dio santo mi sconoscio male il mio orologio con le penne va avanti non è possibile che in quest'ora oggi sia già oggi sentite il tono veramente leggero e così dicendo balzò fuori dall'oggetto mobile di sua speciale invenzione che di notte gli seguiva da letto e di giorno avventiva l'ufficio di tutti gli altri mobili che non c'erano e non c'erano perché l'impero precedente è stato molto freddo ed essi si erano andati a monte di pietà quindi quell'unico mobile c'era che gli seguiva per tutti gli usi voglio dire la situazione triste riprendo la mia considerazione di poco fa ma in effetti è leggerissimamente portata con ironia ci fa sorridere dovendo compiere così sbagliati doveri non è un offendere quel povero mobile dicendo che come letto valeva poco e beh certo siccome stirava una brezzolina tutt'altro che prima venire così Shonar si coprì con una sottana di seta rosa con sparsa le stelle che faceva le funzioni diverse da camera immaginate la sottana di seta rosa che canovore poteva portare al povero Alessandro Shonar e poi a quel punto un campanile vicino batte le cinque e la uova in persona mormorò Shonar ciò mi stupisce perché qui esiste un errore in quanto che la scienza consultava un calendario infiordato sul muro la scienza afferma e l'ottomile il sole si alza le cinque e mezzo sono le cinque appena insomma ma è che sto sole ma è che mi dice alla scienza signor sole lei è già in piedi a quest'ora come va questa declorevolezza e la nutella cioè perché ti sei alzato così presto presenterò un reclamo contro di lei al bureau delle longitudini che sarà mai questo figlio misterioso insomma avete potuto intuire il tono non è sempre così leggero ma abbastanza leggero e se non lo ho capito e nel giorno in cui doveva pagare l'affitto e non lo pagava da benedio e quindi diciamo come faccio ma sì però sono di 5 presto adesso faccio altro poi insomma vediamo poi esco e vedo di trovare 75 franti dove li avrebbe trovati non sappiamo nel frattempo nel frattempo ma tutt'altro si riempometta anche poi con calma tanto per mezzogiorno che volete c'è la tempo bussa alla sua porta il coordinario del palazzo a quei tempi il coordinario era una istituzione e gli ricorda che deve pagare l'affitto lui la prende con leggerezza e dice ma sì adesso esco vado a cambiare 500 franchi quello il coordinario lo guarda con gli occhi sbalati e dice che basta si esce e giù nel cortile incontra un altro giovane che dice ma insomma la mia stanza è libera perché io so che la stanza è libera l'ho presa in affitto e io voglio entrare a casa mia ho portato anche i mobili e Alessandro Chomar ma te ne dice dove stanno i mobili questo luogo inquilino aveva solo una specie di di specchio che faceva questo c'era solo un mobili che faceva il pinto questo c'era solo guardate effettivamente da qui poi e io purtroppo non ve le posso vedere le pagine perché sennò non c'erano una settimana ma da qui poi incontra i due che si incontrano escono insieme vanno a mangiare sono cortesissimi l'uno con l'altro ma sì io vado da mangiare tu voglio il vino insomma e lì incontrano un altro e sono quelli che poi compaiono nella poema di cucini che sono visti già insieme vi anticipo vi anticipo solo che della vita non solo fece parte il mio genio ma fece parte un tale sciaro con lei pensate eh che insomma in quanto ha valore poetico beh insomma e vedete la ribellione poi ci torniamo ma nasce da esigenze di libertà di libertarismo se volete solo che se si incontra con un mio genio porta il librettino piacevole se si incontra con un delere porta la poesia che è il merito ognuno fa quello che ognuno fa ognuno fa sarno ognuno fa Grazie a tutti. 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 Poeta maledetto. Perché si portano attaccata sulla loro pelle la fama di essere ribelli, controcorrente, alcolizzati, eccetera. E si merito, perché? Beh, la letteratura, come la letteratura, come la letteratura, come la letteratura risente del momento storico in cui nasce e si diffonde. la letteratura ha un'interno di un'interno di un'interno di un'intero, come la letteratura, come la letteratura, ha perso la carica originaria, si sta per affermare una letteratura rinnovata interessata agli aspetti sociali, industriali eccetera Ma è, vive un momento di attesa in questo momento, tenete conto che l'opera più importante di Charles Godinard i riflerbi umani, i fiori del male appartengono, sono stati scritti nel 1857 io ho detto poco fa che il colpo di stato del buon apparte fu nel 59 quindi l'epoca è quella evidentemente evidentemente gli intellettuali, i poeti sentono, come dire, i limiti di questa situazione non si sentono né valorizzati né sentono dentro di sé il desiderio di scrivere qualcosa che sia utile alla società anzi notano, si rendono conto perfettamente che il poeta perso il poeta romantico era il poeta parte colui che cantava le glorie possibili della nazione ora il poeta non è più nessuno allora i poeti sentono il bisogno di andare oltre noi due anni fa abbiamo fatto un corso in cui io ho cercato di spiegare i diversi significati di andare oltre che non è soltanto un oltre trascendente e anche un oltre immanente un oltre innanzitutto contro i limiti le consuetudini ritenute aspettiche il fatto che il poeta senta questi limiti è rappresentato bellissimo da una poesia cioè le verdi non di tutto l'Albatros bellissima secondo me che dà proprio visivamente oserei dire la so che ci dà la possibilità di comprendere la sofferenza del poeta che cerca se stesso la sofferenza del poeta che ha bisogno di dire qualcosa di nuovo ma si sente imprigionato chiuso da questa da quella società così retriba così piccola così limitata voi sapete che l'Albatros è un grande uccello marino dai grandi ali che aveva l'abitudine la consuetudine il corretto di seguire le navi e talora si fermava forse per riposarsi sulle tonde delle navi a questo Albatros capitò un destino maligno maligno perché i marinai lo imprigionavano lo legarono sulla tonda impedendo a questa creatura meravigliosa dell'aria di volare stava perciò sulla tonda con le ali chiuse su se stesse è l'immagine del poeta che non ha più la libertà di volare alto che non ha più la visione da una visione da cercare da seguire ma sentite io sono sempre stata contraria a leggere molto perché non si può in una situazione come la nostra ma questo quello devo leggere perché è troppo bello non esagererò giuro perché l'albatros è lungo ma per dire farsi sovente le ciurme catturano degli albatri degli albatri marini grandi uccelli che seguono indolenti compagni di viaggio il bastimento che scivolando va su amari abissi e lì hanno appena sulla tonda a posti che questi re dell'azzurro abbandonano i netti e vergognosi ai loro fianchi miseramente come reni i netti le grandi candidari come goffo e imbelle questo alato di aggiatore lui poco fa si bello come brutto e comico qualcuno con la pipa il becco qui ti stuzzica la un altro l'infermo che volava zoppicando scimmieggia guardate che che quadro spettacolare ha dato del poeta della poesia forse della vita l'uomo è destinato a volare ma spesso sono le circostanze che le rinfiniscono e non sempre tutti siamo capaci di volare alti ma il poeta in special modo perché il poeta è colui che si eleva sopra la realtà per indicarci nuove vie il grande poeta ma voi non i poeti che qui siamo abituati da loro diciamo ah io lo scrivo poi sì no i grandi poeti questa immagine spero vi sia piaciuta rende veramente l'idea di una sofferenza profonda di una consapevolezza che andare oltre è adesso impossibile ma ovviamente naturalmente c'è comunque la ricerca di qualche cosa che ti liberi le grandi ari di questo magnifico cucerio lo faccia tornare a volare alto nel cielo quasi che potesse in tal modo segnare una nuova strada già e l'albatro del resto era stato anche oggetto di altre poesie e le domande cinema inglese ma io credo che anche nel breve brano che vi ho letto ci sono degli elementi che ci fanno comprendere meglio che cosa volesse dire il poema l'albatro è avverso alle tempeste è con l'animale l'uccello che cerca la libertà alta nel cielo e che adesso è caduto imprigionato sulla madre stuzzicato malvagiamente malignamente che rappresentano se consentite tutti noi che non comprendiamo i messaggi alti che spesso arrivano fino a noi e noi non li comprendiamo non siamo capaci di comprendere per cui c'è un messaggio profondo in questi versi che sono bellissimi adesso come il principe dei nembi è il poeta che avvezzo alla tempesta si ride della cene ma esiliato sull'eterno fra schermi camminare non può per le sue ali il gigante quindi il poeta è il gigante che non riesce più a camminare perché non è compreso anzi peggio e lo infelisco e se questa non è rivoluzione dite cos'è non rivoluzione ma ribellione la ribellione ad uno stato sociale che certo i poeti sentono con più forza con più sentono con più capacità ma che doveva riguardare tutti perché anche noi che non siamo poeti non siamo intellettuali siamo personcine normali magari personcine per bene non è vero che non sentiamo nulla dei limiti che la realtà ci impone li sentiamo ma non siamo non siamo capaci di superarli e spesso purtroppo non siamo capaci di ascoltare chi sa cantare parlare questo Baudelaire adesso parla di spleen lo spleen è la noia ma la noia non è quella nostra non so che fa oggi no non è quella la noia è l'insopportabilità della vita l'incapacità di uscirne dunque è un sentimento forte di noia aveva parlato ogni tra voi io non lo so se ha conosciuto tra voi o parli conosciuto nel senso delle opere tu che dici la donna non l'ha tu è tu e però Leopardi aveva dato alla termine noia un significato perso da quello di Baudelaire perché Leopardi parlava di noia come impossibilità di raggiungere i propri obiettivi e di una era una sorta di titanismo ma c'è ancora qualcosa che volevo dire il linguaggio è un linguaggio quello della lica che si basa è soprattutto nel significante voi sapete che in qualsiasi testo si può leggere anche le parole che diciamo noi hanno un significante e un significato cosa vuol dire il significante è il suono albero tavolo vidro già ma dentro questo significante c'è il vero significato perché dico libro che cosa voglio dire facendo riferimento a quei libri a un libro paruncio e fa ben tutto no dunque però e questa è una grande novità appunto partire dal suono della parola per arrivare a farne un simbolo che va oltre il suono stesso vi prego di dirmi se non avete capito perché non è proprio facilissimo da spiegare si è capito qualcosa si siete bravi quindi dal suono a qualche cosa di più che va oltre il suono ma da tattate amici miei ma quando noi parliamo di qualunque cosa anche quando diciamo eh oggi ma prendo questo tempo però certo il suono è quello di mp ma che vogliamo dire a che cosa vogliamo arrivare che cosa vogliamo rivelare o che cosa vogliamo discutere vogliamo nascondere questo accompagna il significante questo è vita l'altro perdone se no vediamo vocali consonanti insieme anche tu eh e poi penserete che io sono matta non so io però io sto cercando di dare concetti non proprio semplicissimi un volto familiare beh e c'è c'è un'altra cosa il ritmo sintattico e che cos'è il ritmo sintattico l'insieme dei periodi che noi usiamo non il vecchio noi amici per parlare per per colloquiare scrivere ma il ritmo è diverso a seconda delle epoche a seconda degli intellettuali a seconda dei poeti questo dei poeti singolisti è un ritmo incanzante ma nonostante sia incanzante dal punto di vista sintattico è come dire riesce a trasmettere sentimenti e realtà che accompagnano tutto il significato sentite questo inizio il componimento intitolato ino alla bellezza giungi dal cielo profondo o esci dall'abisso o bellezza se vuoi ci riflettere sono poche parole giungi dal cielo profondo il cielo è alto non è profondo ma questo è indicativo o esci dall'abisso o bellezza vedete perché ma perché dicendo solo queste parole scrivendo solo queste parole il po' sta scrivendo il suo stato d'animo che cerca la bellezza e si chiede ma la bellezza mi arriva da un cielo profondo qui la profondità è simbolo di raggiungibile un cielo raggiungibile o invece da qualcosa che è lontano al contrario che sta giù da un abisso tu bellezza come ne puoi arrivare e poi dice il tuo sguardo infernale e divino versa confusamente la buona azione e il delitto e ti si può per questo paragonare al vino sentite come il significante si completa gli significanti che però sono alti forse difficili ma anche comprensibili non è chiaro quello che ha detto io penso di sì una chiarezza di prima portata cioè non un'analisi del testo altissima non è che vi chiamo non è il caso ma versa il tuo sguardo la bellezza a uno sguardo infernale e divino perché? perché nella bellezza si fondono l'inferno e un paradiso vero? è è perciò con due con due cose ha detto ha espresso concetti profondissimi versa confusamente la buona azione e il delitto così come c'è l'inferno e il vino c'è la bellezza e il delitto tanto che si può paragonare al vino si capisce che faccia parte dei poignani al vino e la bellezza ma io credo che ci debba ci debba ci dovrebbe essere sufficiente questo pochissimo che vi ho detto non pretendo di avere spiegato né poter farlo perché ci dovrebbero ben altre situazioni in un altro tempo ma penso che vi ha spero che vi abbia potuto trasmettere saputo trasmettere questo nuovo elemento della presa questo nuovo poeta che è splim noia e bellezza che è elevazione e divinità e inferno che ricerca continuo di un di un rinnovamento di qualche cosa che superi le strettoie della società anche quando lei diceva è molto giovane mi ha fatto un tempo a sfidere per fortuna di quello e in Italia che succede vabbè come dicevo prima l'Italia è sempre un po' giudice mi spiace con l'italiano doverlo dire doverlo ammettere ma la Francia che è sempre stata avanti dal punto di vista culturale anche politico le rivoluzioni in Italia io a luna vado a pranzo per piacere non c'ho altro è vero ragazze è vero ma la rivoluzione scomoda vai a fare la manifestazione ma chi si si va eh vabbè io rido perché rido di me soprattutto ma perché ritendo nessuno ci rieta di dire la verità ma vabbè beh l'Italia negli anni 50 ripeto non c'era l'Italia d'Italia assolutamente che si navigava da piccole sommosse della giovane Italia da Mazzini perché ancora era lontana pensate la spedizione dei mille pensa un po' pensate un po' quanto noi siamo indietro e beh e però noi abbiamo avuto Manzoni eh non viene nel male Manzoni è come dire la misura della letteratura italiana colui che ha scritto in prosa che in Italia scritto in prosa non era così facile ha determinato i caratteri della cultura del racconto del romanzo o il primo grande romanzo della letteratura italiana qual è i promessi in prosa l'abbiamo letti tutti li leggono ancora i nostri figli i porti eccetera eccetera sono bellissimi ma sono quelli oltre quando andiamo sì però l'italiano tradizionalisti classicisti soprattutto classicisti non possono fare il balzo che ha fatto poterlo assolutamente no non non ce l'abbiamo però qualcosa c'è c'è la scapigliatura la cosiddetta la scapigliatura milanese anche qua milanese però non è vero che fu solo l'italese fu anche che non veste per esempio tocco diciamo la scapigliatura tocco l'italiano settentrionale assolutamente già è arrivato ma non fa niente perché faccio le scapigliature scapigliatura che vuol dire scapigliatura uno è scapigliato è spettinato e gli sono rinando no eri bello no uno che è scapigliato beh sarebbe bello ma beh sto tornando Olga ma non è scapigliato sempre no no ma lascia lo scanto la scapigliatura anche la la scapigliatura l'italiano milanese se volete è un movimentino sia perché non è per carattere nazionale sia perché rispetto ai poeti maledetti non si può fare un buon punto però qualcosa ci sono ma sapete chi furono i poeti della scapigliatura Cleto Adì Arigoboito Arigoboito fu anche musicista e quindi vedete c'è un tentativo di miglioramento di superamento della tradizione tentativo che si espresse nei contenuti più che nel linguaggio mentre con l'era prima il linguaggio poi il contenuto o meglio in un'armonia perfetta qui c'è un contenuto nuovo forse nuovo un contenuto che sa di morte continuamente questi sono portati a parlare di morti di cadaveri il poeta che abbraccia la fidanzata dice Pedro il tuo schereto di un'allegria spaventosa e però che cosa voglio dire non voglio togliere ogni merito a questi nostri poeti ma per esempio c'è un componimento intitolato dualismo già il titolo dualismo dice due indica due realtà diverse dualismo è di Emilio Praga uno di e dice sono luce e ombra beh il dualismo è così lo dice subito in apertura del componimento angelica farfalla o verne il mondo angelica farfalla o verne il mondo beh parto gli scherzi la mia ironia letteratura italiana non grande come quella francese ma qui c'è qualcosa che tormenta l'animo di questi poeti sono verne o sono farfalle sono verne e farfalle insieme chissà sono luce o sono ombra sono luce e sono ombra e se ci riflettiamo anche solo un po' senza necessariamente scendere in discorsi troppo impegnati eh costituiscono una grande unità perché mai più avremmo pensato a una poeta del romanticismo italiano ammesso che il romanticismo ci sia stato in Italia posto io non ho mai venuto ma eh arrivare a dire sono luce e ombra verne o farfalla è un rinomamento è qualche cosa che lentamente pudicamente si sta vivendo non ha la forza rivoluzionaria di Baudet o di Rembaud di Madarnè di Verlaine che purtroppo non posso leggere ma c'è un germe di novità ecco perché nelle intime cogitazioni sentite il classicismo cogitazioni nelle mie intime discussioni io sento la bestegna dell'angelo che ride al suo tormento o l'umile orazione dell'esu e il limone che ride a Dio che questo vuoi o l'angelo ribelle cioè o l'angelo che torna verso Dio beh chiacchierate abbastanza adesso abbiamo chiudiamo 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 io non so 10 minuti o quattro l'ora di più è finito non si può chiudere quattro l'altro allora adesso chiudiamo con Ninì che è Samoregna bellissimo che bellezza che è Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.